Novanmer è noioso Centinaio video ora dopo ora E non te ne stai nemmeno A riconoscere l'algoritmo per te E si coglierlo Ma inizio alla fine Cinema, teatro, guerra segreta dei creator Di chi non ti chiede Questa volta non ti chiederò di mettere like a questo video e iscritti al canale Ma Pamina Ti segna riguardo Molte stengono che è possibile L'umano oggi riesce a 9 secondi Le insassi Incoglionirvito te Ti sta dicendo una persona Perdendo interesse in ogni gattivo Sulla su Do una ricerca davvero con E a colo Si leggevano dei libri Twinirvito time pass Il video dure 10 Crollare di minuti alla 10 minuti Hai scritto un video davvero ben fatto Avendo un watch Nonostante in un canale YouTube O in un profligere Bisogna riconoscere però Che ci sono Verso la fine dei Sul contenuto In questo modo Avrai la possibilità di provare la lucidmo Cambia sfondo Basta che non ti metti Guardare la lucid Di Subway Surfer sotto Verso la fine degli Dei che siamo tutti Continuamente bombardati Di informazioni H23 stimoli Oppure 4 stimoli Oppure 44p Finalmente in 4k 60fps E per non farti man Lo short Forb Incorporata Adblocker Incorporato E tracker Blocker Incorporato E se proprio Blocker E to Attro stime Nemmeno io Quindi Do Riconoscere Sto social E to In realtà E fighi Internet Allo stesso modo Negli show Il mente Riassumio Di un gameplay Di tempo Il raso sotto Ecco Ma si tratta Comunque Di tecniche Narrate Video sotto Appena ti annoi Del video sotto Ritorna a guardare Sta cosa Con portarti A perdere Rapporti Su questo Abominio Capace Di tutto Il video Vuoi andare Sul sicuro Mettitano Al perché Di ci sono alcune Ti impediscono Di scrollare Al prossimo contenuto Cosente Prima di parlare Osservando bene Alcuni profati In un mondo Fottutamente pieno Di soluzione Sete il tiktok E disinstallarmi A sfondo Basta che non ti Tiktok Ti metti qualche La passerò Al preta Dei creator Dei video La passerò Al prossimo stimolo Scorrerò Al prossimo La passerò Facciamo O si legge A carte O si legge Facciamo Delle partite A carte O si legge Determinata La passerò Al pro Grazie a delle Piccane Capace Di farti Tornare Alla normalità Però devo Darvi una notizia E tu non riesci A vedere un film E fare una partita A Candy Crush Saga Succede Che nel 1700 O legge Di Chiedendo a moltissime Persone Che utilizzo Basta cercare Su google E la prima risposta Che troverai Ormai la nostra Attenzione Chiedendo a moltissime Persone Che utilizzo Ne fanno Basta cercare Su google La passerò Al pro E l'insegna Della cultura Con un attention span Guerra segreta Dei creator Tanti anni Nel tempo La formula Di short form content Sta cosa O colpevoli Di un meccanismo Un gioco a caso sotto Ecco il tuo occhio Guarda Gioco a caso sotto Ok sta distruggendo La tua so Il mente riassumibile E dritto al periodo Riuscivano a guardarsi Questo tipo Ne è ben consapevole Che sta realizzando Si facciano delle partite A carte O si legge Determinata Fa sciaurato Qualcosa Che spunta A caso Deve ripunto In poco Di tic Meno che sta facendo Qui Mando io In prima persona Tic to Memorie muscolari Grazie a delle piccole tecniche Riacquistando La propria so Deva dar Deci No Grazie Pieno di video Che suggeriscono Di provare a leggere un libro Mettando La propria so Cosa voglia dire Insegnare qualcosa A questi bambini Nelle scuole Nei prossimi anni La passerò Al Riusci L'emozione Provate ad immaginare Da chi sarà composta La prossima Che con tecniche Subdole Sta piano Prati E che guardi ogni giorno E a colo La passerò Al prossimo Sti A dare il tuo Tic to Del cap Sono sicuro Al cento per cento Che lei di un gioco A caso sotto Ecco Il tuo occhio Guarda Prima i griffi Neglierlo Ma all'ultimo Di tic toko Terri saputa Ci sono Tavimento Di swipe Chi realizza Contenuti brevi Di questo tipo Ne è ben consapevole Dell'attenzione Video dopo video Ora dopo ora E non te ne stai Nemmeno Play in modo Totalmente Brainless Ma prima di andare avanti Devo testare Nuova E that's Intrattenimento Nel medioevo Tra un morto di peste E una decapitazione Magare Che avevi bisogno Di un gameplay Di un meme facilmente Riassumivo Stoporello Si scassava Le piene I video Che vengono Sciolte Di essere mostrati E che guardi Il mio giorno E a coro Che pur di inseguire L'algoritmo Di tic toko Cosa non credisse Ora Invece La soglia Della Contenuto Per il culo C'è Amine Questa cosa Capace di aumentare La qualità Di vita Ho passato i ultimi mesi A prendere bene Cosa Il diavolo Sta succedendo La soglia Della La tipica Nella vita Di questo giovanotto Non c'erano Molti A tenare il cielo Guardare il luogo Guardare il tuo E insomma Senza dare il tuo Tic toko Del ca Basta meme Orribile In 144p Finalmente In 4k Sessato Che la soglia Del latte Scrollare Al prossimo Scegliere di vedere Ma che ti viene messo davanti In questo momento Hai deciso di concentrarti A vedere questo video In questo momento Hai deciso di concentrarti A vedere questo video In questo momento Nemo Nella vita